E' attesa per il prossimo 14 luglio la sentenza del processo con rito ordinario per la rapina dopo la quale morì Maria Melziade, 75 anni, è titolare di una gioielleria che fu aggredita e derubata a Canosa il 17 novembre del 2016. Ieri l'udienza davanti alla Corte d'Assise del Tribunale di Trani in cui le difese degli imputati hanno chiesto l'assoluzione per i propri assistiti. Con rito abbreviato furono condannati in due distinti procedimenti tra il 2018 e il 2019, rispettivamente a 18, 14 e 10 anni di carcere Gianfranco Colucci, ora 28enne, oltre al pentito Lorenzo Campanella, ormai 60enne, Francesco Scardi di 52 anni. Per loro l'accusa è stata quella di omicidio preterintenzionale, aggravato e rapina per i più giovani. C'è anche l'accusa di detenzione illegale di arma. Tutti e tre comunque erano già finiti in manette a dicembre del 2016. Con rito ordinario invece sono a processo il nipote della vittima, Alfonso Massimiliano Flora con l'accusa di omicidio preterintenzionale e che avrebbe concorso alla rapina come informatore e per cui il pubblico ministero ha chiesto 13 anni e mezzo di carcere. Tre anni invece la richiesta per Luigi Catalano ritenuto responsabile di ricettazione per aver acquistato i gioielli rapinati dalla vittima. Per la difesa di Flora nel corso del dibattimento sarebbe emersa le straneità dell'uomo rispetto ai fatti accaduti se non per alcune telefonate con qualcuno degli imputati. Stessa richiesta per Catalano da parte della legale che nell'udienza di ieri ha fatto notare come siano emersi degli elementi inconsistenti e contraddittori. Ma nel processo sulla morte di Maria Melziade c'è spazio anche per un'altra rapina in appertamento, questa volta commessa qualche giorno prima, cioè il 3 novembre 2016, ai danni di un anziano sempre a Canosa. La pubblica accusa ha invocato nove anni di reclusione a testa per i canosini Gianfranco Colucci e Francesco Scardi, già entrambi condannati per l'omicidio Melziade. Stando alle ricostruzioni degli inquirenti della squadra mobile, quel 17 novembre del 2016 la donna e il marito, ex proprietari di una gioielleria nel centro di Canosa, ora gestita dalle figlie, erano appena tornati da un viaggio a Milano. Il marito era in garage mentre la signora salì in casa, aprì la porta ai due rapinatori pensando che fosse stato il marito a suonare il campanello e fu aggredita immobilizzata con del nastro adesivo stordita dalle scariche elettriche di un teaser, poi picchiata con schiaffi, calci e pugni, fino a restare esanima e sanguinante sul pavimento di casa. Morì in ospedale. Alcune ore dopo i rapinatori riuscirono invece a fuggire con gioielli e denaro.